si riprende benvenuti sul mio canale si riprende stiamo andando verso via benedetto croce provenendo da lì che è l'inizio di pacca napoli ogni mese si sta a qualche negozietto qualche bottega che si mangiano delle delizie napoletane qui stiamo alla pescheria acqua pazza food guardate un po guardate quanta gente c'è a fare la cosa per mangiarsi poco venite a napoli condividete questo video mi raccomando iscrivetevi al mio canale e che ve lo dirà napoli in masa nei turisti 4 gennaio 2023